Siamo ovviamente nelle verifiche tecniche per capire quanto questa frana sia profonda e soprattutto quanto sia ancora a rischio il versante rispetto a nuovi movimenti, a nuove cadute. C'è una parte della stessa realtà che è in biligo e quindi sarà necessario assolutamente fare un disgaggio di tutto il versante. Comunque ci sono i tecnici, i geologi e la ditta incaricati dalla provincia ovviamente per approfondire in modo più puntuale possibile la situazione e ovviamente la volontà e l'obiettivo è riuscire quanto prima a ricreare le condizioni di circolazione però per le caratteristiche di questo tratto del versante e soprattutto per quello nel momento che c'è stato sicuramente non sarà una cosa immediata, anzi sarà richiesto del tempo per le lavorazioni sia di disgaggio che di messa in sicurezza della strada. Questo è assolutamente indiscutibile tanto che ovviamente come provincia stiamo spingendo al massimo con le lavorazioni che ci sono in questo momento in corso in località Pusignara sulla frana che si è avuta nei giorni passati proprio per ricreare lì le condizioni di circolazione e il transito della 35 almeno di quel punto e quindi dal nord verso sud però ricreando almeno le condizioni di transito sul modo violato.